Gli NPC sono la nuova moda, il nuovo trend che sta spopolando sui social, in particolar modo su TikTok in questo periodo. Se non sai di cosa sto parlando, tranquillo, adesso te lo spiego velocemente. Analizziamo rapidamente questo trend che è davvero virale su tutte le piattaforme e lo facciamo perché io sono convinta di una cosa, ossia del fatto che all'interno dei trend, delle cose che vanno virali sui social in questo periodo storico, si nascondono, si trovano riflessioni davvero molto importanti a proposito di quella che è la nostra società, sulla nostra società, sul modo in cui percepiamo le dinamiche attuali e quindi io credo che sia davvero importante riflettere su queste tendenze dal punto di vista filosofico, etico e morale. Bentornato sul mio canale, se sei qui per la prima volta invece benvenuto, mi presento velocemente, mi chiamo Esmeralda Moretti e mi occupo di filosofia, storia della filosofia, sviluppo del pensiero critico e attualità su tutti quelli che sono i principali social, quindi su Instagram, TikTok, YouTube e Spotify dove mi trovi come esme-psiturisma. Oggi parliamo di MPC, che cosa sono gli MPC? Sono la nuova moda del momento, il nuovo trend del momento, infatti se aprite insomma qualunque tipologia di piattaforma, soprattutto TikTok, troverete in breve tempo delle live in cui ci sono insomma delle persone, degli utenti, dei creators in realtà che interagiscono con la propria community in un modo molto particolare. Ma partiamo dal termine, che cosa vuol dire MPC? MPC sta per Non Player Characters, ossia personaggi non giocabili. Personaggi di che cosa? Beh, tendenzialmente dei videogiochi per esempio. Gli MPC sono tutti quei personaggi che non sono il protagonista del videogioco, dei personaggi giocabili appunto, ma sono dei personaggi di contorno che rispondono con delle azioni preprogrammate a degli input che provengono dal giocatore, quindi appunto dall'utente che sta giocando al videogioco. I movimenti, le azioni degli MPC sono preprogrammate, quindi sono delle azioni ripetitive e che hanno un meccanismo del tipo ha un determinato input, il giocatore fa questo, corrisponde a un determinato output, che non è un output però creativo o imprevedibile, ma appunto è fondamentalmente sempre lo stesso. Questo meccanismo, ossia questo ad input corrisponde a un output che è un output preprogrammato e quindi prevedibile, è un meccanismo che, provenendo appunto dai videogiochi, da questo mondo videoludico, è stato ripreso dai creators. Creators ovviamente non italiani, questa moda è arrivata adesso in Italia, ma viene dall'estero, soprattutto ha spopolato in America nei mesi scorsi e addirittura in realtà c'era un periodo prima della pandemia in cui andava tanto in America. E come funziona? Insomma, i creators si mettono in live e all'interno di queste live, nel momento in cui ricevono determinati input dagli utenti che sono collegati durante la live, che sono presenti in live, quindi appunto su TikTok sapete che le live hanno un meccanismo in cui è possibile inviare dei regali, si chiamano, quindi si può inviare la rosa o un'altra serie di bottoni che sinceramente nemmeno mi ricordo, e ogni volta che un utente invia una rosa o qualunque altro tipo di regalo si chiama al creator, il creator reagisce facendo appunto un verso o dicendo una parola o facendo un gesto, un movimento. Ovviamente donare ad un creators un oggetto, un regalo appunto si chiama su TikTok significa donargli un corrispettivo in denaro, tendenzialmente sono cifre insomma molto piccole, mi pare che una rosa costi 0,01 centesimi insomma su TikTok, comunque sia c'è un effettivo corrispettivo in denaro, quindi questo è che cos'è un MPC. Ok, ora riflettiamo un attimo su questo trend, su questo atteggiamento a livello etico-filosofico. Vorrei partire da una cosa, ossia qual è stata la mia reazione la prima volta che mi è capitato nei giorni scorsi, perché io non essendo inserita in tutto quello che è il mondo di TikTok America non avevo visto l'ondata provenire dall'America, mi sono trovata però immersa in quello italiano. Ecco, qual è stata la mia reazione, la mia prima reazione quando mi sono trovata all'interno di una di queste live? È stata un'iniziale sensazione di spaitamento, ero totalmente spaitata, non capivo che cosa stesse succedendo, perché mi trovavo sullo schermo un creator appunto, che tra l'altro non era nemmeno un creator italiano, io per la prima volta ho trovato un creator spagnolo, non chiedetemi perché, che nel momento in cui io non avevo nemmeno capito inizialmente la connessione tra invio di regali e azione del creator, io vedevo semplicemente questo creator dire delle parole che si ripetevano, fare dei gesti ripetitivi, e solo, mi ci ha voluto insomma qualche secondo, forse 30-40 secondi, per capire che le parole, i gesti di quei creator erano la conseguenza degli oggetti, dei regali che gli venivano inviati dagli utenti, quindi lì per lì mi sono sentita solo spaisata. Passati però questi primi 30-40 secondi di spaisamento, io mi sono sentita in ansia e ho molto ragionato in questa settimana su questa mia ansia, nel senso che questo video nasce proprio da questo sentimento fortissimo di ansia che io ho trovato per la prima volta in cui mi sono trovata all'interno di una live con un creator che faceva il ruolo, che giocava il ruolo, mettiamola così, di un NPC, e mi sono chiesta questa settimana a più riprese perché fossi caduta in questo stato d'ansia che mi ha veramente accompagnata per tanto tempo dopo. In questo video, a partire da questa mia ansia che mi ha portata a una serie di riflessioni, rifletteremo su quelli che possono essere i risvolti etico-filosofici di un trend del genere perché io ci tengo a dire questa cosa, sono davvero convinta del fatto che ad ogni trend corrisponda un determinato atteggiamento sociale che dietro quel trend si nasconde, quindi una tendenza appunto sociale che poi si manifesta attraverso quel trend ma in realtà è un po' come il discorso dell'inconscio di Freud, cioè il trend è la punta dell'iceberg e sotto c'è una montagna di ghiaccio che è gigantesca e di cui nemmeno ci rendiamo conto spesso, quindi cercherò un pochettino di scavare cosa c'è insomma sotto questa punta dell'iceberg, ma ci tengo a fare una premessa importante. Il mio video non ha assolutamente nessuna tipologia di scopo polemico, ma ha soltanto uno scopo di riflessione, di analisi, di spunto se così si può dire. Questo perché ho visto, purtroppo e mi spiace dirlo insomma, su TikTok soprattutto, tanti creators attaccare i creators che fanno live di NPC, trattandoli veramente male, cioè fare delle cose che sono al limite del cyberbullismo. Ecco, io non sono assolutamente d'accordo con questo atteggiamento, nel senso che va benissimo riflettere su quello che è un trend, dire non mi trovo d'accordo, secondo me si rischia questo, si rischia questo, oppure semplicemente non mi piace, perché ci sta, uno può anche semplicemente dire non mi piace, l'importante è non scivolare nell'estremo opposto, e cioè dire, ah questo creator che fa questa cosa è pessimo per questo, questo, questo motivo. Quindi attacchi personali assolutamente no, non ho niente di personale contro i creators di NPC, anzi sono contenta se riescono insomma a far diventare magari questa passione anche un lavoro, ecco. Ovviamente servono un sacco di spettatori per renderla un lavoro, ma se qualcuno ci riesce è buon per loro, e la mia riflessione non è sicuramente rivolta né al singolo creator né alla singola live, ma è molto generale su questa tendenza, che ripeto non parte nemmeno dall'Italia, ma parte appunto oltreoceano dall'America, e quindi è veramente una riflessione generica, non è un attacco, non è una polemica, quindi mi discosto da tutti quelli che sono stati gli attacchi personali a creators italiani e non. Iniziamo con quelle che sono le riflessioni etico-filosofiche, che ho riassunto per cercare di non perdermi in chiacchiere, come faccio sempre nei video, e io inizierei dal punto che ho sviscerato per primo, ossia quando ho iniziato a riflettere su questa mia ansia, ho capito che una grossa fetta di quell'ansia che provavo era legata al fatto che inconsciamente avevo percepito quella live come un momento di infinita spersonalizzazione e autodeumanizzazione e declassamento ad oggetto del creator in questione. Perché? Perché c'era questo creator che anziché fare una live in cui raccontava una cosa, leggeva una poesia, recitava qualche cosa, chiacchierava, cioè qualunque cosa umana, quel creator non stava facendo un'attività umana che ci caratterizza in quanto esseri umani, quindi un'attività comunicativa in senso stretto, quindi proprio legata a linguaggio verbale o creativa, ma stava semplicemente rispondendo a degli input, cosa che può fare un qualunque oggetto o un qualunque computer appunto perché ad input corrisponde output. E questa cosa mi ha inquietata moltissimo perché non l'avevo mai vista a questo livello, nel senso che parlando di questa cosa con alcuni amici mi è stata mostra la critica che ho ricevuto più spesso, eh ma se ci pensi anche con OnlyFans funziona così. No, secondo me, e non sto qui dicendo qual è la mia posizione su OnlyFans, se volete possiamo parlarne, ma secondo me sono proprio due piani diversi, nel senso che su OnlyFans gli utenti si recano apposta per fruire determinati tipi di contenuti che sanno trovarsi su quella piattaforma e soprattutto il lavoro del creator, per quanto possa essere da alcuni definito mercificazione, si può essere d'accordo o no, comunque sia è un lavoro creativo, perché c'è un lavoro creativo di creazione del contenuto che poi viene caricato sulla piattaforma. Ripeto, possiamo essere d'accordo, possiamo essere conto, ma contro il meccanismo comunque è questo. Invece queste sono live che avvengono su una piattaforma, che è una piattaforma che viene fruita indistintamente da persone di qualunque età, di qualunque parte del mondo, perché appunto su TikTok si trova il bambino di 11 anni che nemmeno dovrebbe stare su TikTok, ma comunque sta ugualmente su TikTok, fino al cinquantenne, al sestantenne, ecco quindi diciamo che in queste live si capita per caso, non è detto che si scelga di andare, come magari accade invece per i contenuti ad esempio su OnlyFans. E quindi è proprio questo fatto di capitare in una live del genere che a me ha generato questa ansia, e poi di capitare e vedere appunto questo atteggiamento. Rispondo ad una critica, siccome qualcuno ritiene che ci sia della creatività dietro quello che è il ruolo dell'MPC, io non voglio negare l'atto creativo di aver avuto l'idea di fare per primo l'MPC o di fare bene l'MPC, cioè di fare dei gesti, dei versi che magari siano molto efficaci o che siano stati studiati nel senso che siano molto caratteristici, quindi faccio questo rumore perché cattura l'attenzione. Questo è in dubbio, cioè c'è un atto creativo in questo senso, ma l'atto creativo finisce lì e poi viene reiterato, cioè è come quando noi esseri umani programmiamo una qualunque cosa tecnologica, cioè l'atto creativo c'è nel momento iniziale, che è il momento umano, e poi cessa di esserci. Cessa di esserci perché appunto le macchine reiterano, portano avanti quello che è un atto creativo che è un atto iniziale, o meglio adesso con l'intelligenza artificiale stiamo vedendo che in realtà la tecnologia non si limita a riprodurre in modo passivo, ma comincia a sviluppare anche quelle che sono altre capacità, che però derivano sempre da un atto di programmazione, quindi da un atto creativo, da un atto di studio, che è un atto tutto umano, perché ciò che ci distingue e che per sempre ci distinguerà dalle macchine, a prescindere dal grado di autoapprendimento che le macchine potranno mai raggiungere, è proprio la creatività, perché qualora una macchina, lo stiamo vedendo con già GPT, qualora una macchina diventasse creativa, e ci vorrà un sacco di tempo ancora prima che delle macchine risultino, cioè prima che delle macchine riusciranno ad essere davvero competitive con quella che è la creatività umana, potrebbe succedere, comunque sia l'atto creativo della macchina deriverà sempre da un atto creativo dell'essere umano che l'ha programmata, che l'ha studiata, quindi è questo che intendo dire, cioè con gli NPC l'atto creativo finisce nel momento in cui c'è la preparazione, perché poi per tutta la durata del processo in cui il creator è NPC non c'è atto creativo, ma c'è appunto un atto ripetitivo di quello che è sicuramente un primo atto creativo, ma che poi non si ripete più in senso creativo, ma solo è di ripetizione. E quindi razionalizzando è esattamente questo che mi ha inquietato, cioè questo ripetere, 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 che porta a una spersonalizzazione totale, e io ho utilizzato addirittura un termine più forte prima, che è quello di deumanizzazione, so che è un termine pesantissimo, ma è autodeumanizzazione ho detto in realtà, perché non è che qualcuno deumanizza il creator, ma il creator che si deumanizza da solo. E questa cosa qui, visto anche comunque sia tutti i secoli che ci sono stati, insomma, in passato per definire che cos'è un essere umano, in che cosa debba essere diverso dalle macchine, dagli animali, ecco, mi ha fatto effetto, cioè nel senso perché comunque sia è un qualcosa, cioè ci sono state delle tristissime epoche storiche in cui era normale considerare oggetti degli esseri umani, purtroppo, e mi riferisco per esempio a praticamente tutte le epoche storiche in cui la schiavitù era affermata come pratica e non c'erano problemi a praticarla, purtroppo, e ecco, quelle erano epoche in cui vedere l'essere umano come un oggetto di cui disporre liberamente, quindi a cui dare un input e far corrispondere un output, era un qualcosa di normalizzato, assolutamente. Oggi non è più così, e quindi mi ha fatto un po' da sole da umanizzarsi e ridursi a ripetizione di, cioè ripetizione appunto di input che provengono da utenti. Sto facendo fatica a spiegare questo concetto perché non è semplice, però mi ha fatto davvero agitare, ecco. L'altra cosa che mi ha generato molta ansia quando mi sono trovata all'interno di questa live è il fatto che nel momento in cui si crea un rapporto di questo tipo tra creator e utente, ma in generale, al di là del creator utente, parliamo tra persona e persona, perché il creator è una persona e l'utente è un'altra persona. È vero, poi ci si trova in un contesto digitale, quindi ci sono tutte le dinamiche di una cornice che è quella della tecnologia e in particolare di un social network, però tendenzialmente il rapporto interpersonale, che sia online, che sia dal vivo, è caratterizzato da alcuni meccanismi di base. Quello che secondo me è il più evidente di tutti è il fatto che di solito ad azione corrisponde reazione, ma il discorso è che di solito le nostre azioni sono libere e solo parzialmente prevedibili e nello stesso modo si muovono quelle che sono le nostre reazioni, quindi in una relazione normale in cui parliamo io ti faccio una domanda, tu magari non la prevedevi, però comunque sia sei libero di scegliere se rispondermi, scegliere come rispondermi, scegliere se dirmi una cosa vera o una cosa falsa, fare una risposta lungo una risposta breve, cioè io so che tendenzialmente se ti faccio una domanda mi risponderai, perché altrimenti sei antipatico, però tu potresti in primis non rispondere e poi comunque sei libero di scegliere come rispondere, quindi quello che caratterizza di solito qualunque tipologia di rapporto umano interpersonale appunto è proprio questa componente di imprevedibilità, componente di imprevedibilità che caratterizza il rapporto interpersonale anche sui social, perché i meccanismi di socializzazione sui social sono diversi da quelli nella vita reale, perché? Perché nella vita reale io vengo e parlo con te e invece sui social io vengo sul tuo profilo e ti lascio un commento, ma anche lì ad azione corrisponde reazione, innanzitutto non è detto che io per forza risponda al commento ad esempio, quindi la mia reazione potrebbe non esserci, io sono libera di non dare una reazione, no? Oppure poi potrei rispondere in questo modo, in quest'altro modo, in mille modi diversi. Ecco, questo venir meno del rapporto azione-reazione e in cui la reazione è imprevedibile ma anche l'azione lo è in cui c'è una componente importante di imprevedibilità e mi ha generato altra angoscia, cioè un altro motivo di angoscia era proprio questo, cioè che una delle cose che noi non ci ragioniamo nemmeno mai ma è alla base di qualunque rapporto interpersonale il fatto di non poter prevedere che cosa accade, questo venir meno di questo lato di imprevedibilità mi ha mandato in ansia. Non so più nemmeno quante volte sto dicendo ansia in questo video. Andiamo avanti! Un'altra cosa che mi ha inquietata proprio questa volta e non sono mandato in ansia è il fatto che alla base di questo trend c'è il fatto di voler avere o comunque sia avere piacere quando si ha controllo sulle azioni di qualcuno, quando si ha controllo su qualcuno, ovviamente ci riferiamo a un controllo di fare questo gesto che può sembrare una cosa piccola ma in realtà, di nuovo, è la punta dell'iceberg. Ecco, mi ha inquietato il fatto di vedere appunto questo essere contenti quando si ha controllo sulle azioni di qualcuno, magari senza nemmeno sapere bene il perché, perché magari lì per lì è soltanto un meccanismo che si instaura per gioco, cioè mando questa rosa, vedo questa reazione, mando questo omino, vedo questa reazione. Eppure noi dovremmo chiederci il perché ci genera divertimento o il perché ci intrattiene o il perché ci affascina in qualche modo il poter controllare ciò che un'altra persona fa e quindi poter prevedere e controllare appunto le sue azioni. Perché questa non è una dinamica tipica dell'essere umano. Noi di solito, tolti appunto i casi storici di schiavitù purtroppo, non abbiamo il controllo sugli altri esseri umani, ma tendenzialmente non abbiamo il controllo nemmeno sugli animali, non dovremmo averlo almeno non in quel modo, purtroppo poi capita che lo si abbia. Noi le uniche cose su cui abbiamo il controllo sono appunto le cose, sono gli oggetti della nostra casa, gli oggetti che usiamo, sono i personaggi di un videogioco, ma sugli esseri umani non è normale averlo, è quasi spaventosa l'idea. E quindi per quanto ovviamente ci troviamo in un contesto in cui il creator è consensiente, cioè una sua scelta, quello di prestarsi a questa tipologia di dinamica, mi ha inquietato proprio da una parte il fatto che l'utente ritenga ok il fatto di volere avere questo controllo, per quanto sia un controllo ripetiamo consensiente, piccolo, legato ad un solo gesto, è un controllo simbolico, non so se mi sono spiegata, e dall'altra il fatto che il creator si presti a questa tipologia di assoggettamento, vogliamo chiamarlo così, sono parole impegnative, lo so, perché adesso vi verrete a dire ma questo è solo un trend di qua di là, è vero però lasciatemi arrivare alla fine, nel senso che secondo me è proprio vero che dentro questo trend si nascondono una serie di problematiche della nostra società, non perché chi lo faccia sia pazzo, cattivo ci mancherebbe, però semplicemente in modo inconscio queste dinamiche ragionandoci in effetti emergono se razionalizziamo questo trend. Altro lato che mi ha inquietato è il fatto che queste live sono tendenzialmente piene di spettatori, ma parliamo appunto di spettatori nell'ordine delle migliaia appunto, e mi sono chiesta ma perché ci sono tutti questi spettatori passivi, nel senso che arrivavano tante reazioni e quindi ci sarebbero stati poi tanti movimenti da parte del creator, ma c'erano talmente tante persone connesse in questa live che non tutte stavano inviando una reazione, tante erano soltanto lì a guardare in modo passivo e mi sono chiesta ma perché queste persone stanno qui a guardare in modo passivo una live che nel senso non è una live di ASMR, le ASMR sono appunto le live in cui si fanno dei rumori rilassanti che conciliano il sonno, fanno rilassare e quello tu lo guardi come spettatore passivo perché ti fa rilassare, ci può stare. Ma questa è una live in cui il tuo ruolo non ha senso che sia passivo perché la live si basa proprio sul fatto che tu faccia delle donazioni, cioè la tua presenza passiva è quasi immotivata o comunque sia potrebbe essere legata al fatto che non capisci bene il fenomeno, stai cercando di capire e quindi stai vedendo come funziona e mi sono chiesta perché tutte queste persone sono qui dentro in modo passivo e non partecipano ma nemmeno escono. E quindi tutto questo ci porta a quello che dicevamo prima, cioè al paradosso di fingersi meccanismo, lasciatemi dire, nell'epoca in cui però stiamo facendo a livello etico, bioetico, sociale, tecnologico delle serie riflessioni in merito al ruolo che ha già in questo momento e dovrà avere la tecnologia o in senso più stretto l'intelligenza artificiale all'interno della nostra società. In questi anni si sta cercando di capire in che modo potrà essere regolamentata ad esempio la nuova tecnologia e soprattutto l'intelligenza artificiale e ci si sta interrogando su che cos'è che continuerà a renderci diversi dalle macchine. Io la mia posizione ve l'ho già detta prima, però resta la mia personale, ossia il fatto che l'essere umano a differenza della macchina è colui che genera il primo atto creativo, perché forse si arriverà al punto in cui sarà la macchina a generare il primo atto creativo, ma non siamo adesso a quel momento, servirà sempre comunque, almeno per ora, l'input, il primo input umano, ok? E quindi insomma si sta però davvero cercando di capire in che cosa l'essere umano è diverso da una macchina molto evoluta, da un'intelligenza artificiale molto evoluta e quindi nel contesto di tutte queste riflessioni che comunque sia sembrano quasi apocalittiche ma ci riguardano, abbiamo visto i progressi di chat cpt e simili, mi ha fatto davvero riflettere il fatto che ci siano dei creator che si pongono sulla sfera opposta, cioè fanno questo tentativo di passare dall'altra parte, cioè di fingersi macchine, fingersi parte di un ingranaggio nell'era in cui paradossalmente si deve riflettere su che cos'è che ci rende umani, perché lo sappiamo fin troppo bene che cos'è che rende una macchina tale. E adesso arriviamo alla riflessione finale, io credo che in questo trend, e con questo non voglio ripeto insultare né i creator che lo fanno né le persone che hanno piacere a guardarlo, voglio solo fare una riflessione magari per vedere insomma se qualcuno può aggiungere qualcosa e generare un dibattito come faccio sempre tra l'altro, in questo trend io credo che si stiano celando una serie di ipocrisie, ma ipocrisie intese anche come difficoltà, come complessità di quella che è la nostra società. E ora vi racconto quelle che secondo me appunto si trovano. La prima è quella che ci ho messo un po' più tempo a individuare, però è quella che secondo me si incastra anche meglio in quella che è questa analisi, ossia noi tendiamo a rispondere a quella che è la rapidità della nostra quotidianità, fateci caso, quanto è diventata veloce la vita, bisogna fare ogni giorno 200.000 cose, bisogna laurearsi in fretta, bisogna trovare lavoro in fretta, abbiamo poco tempo, dobbiamo fare il mutuo, però il mutuo non ce lo danno perché non si trova lavoro, bisognerà lavorare fino a 75 anni perché non andremo in pensione, cioè quanta ansia viene a guardare al nostro futuro e al nostro presente che è un presente frenetico, un presente iperconnesso, un presente di corsa. Ecco, noi rispondiamo a tutta questa rapidità fruendo dei contenuti che sono ripetitivi e che in realtà di contenuto hanno ben poco, no? Perché sono dei contenuti che essendo ripetitivi ci cullano, ci tranquillizzano, ci lasciano in quella che è un po' una comfort zone, è come quando io ho notato questa tendenza nella generazione dei nostri genitori, quindi di chi oggi ha 50 anni, ditemi se l'avete notata anche voi, l'ho notata in tanti genitori di amiche, di amici nei miei, i nostri genitori se ci fate caso rispondevano alla loro ansia, almeno i miei e tanti altri che ho conosciuto, guardando alla sera per esempio film o serie tv che conoscono già, che conoscevano già. Perché? Perché il fatto di dover seguire un film nuovo è un atto creativo, un atto di impegno, invece il fatto di guardare per la millesima volta un film che si è visto appunto mille volte è una cosa che fa compagnia e rilassa senza però avere il pensiero di dover stare impegnati su un contenuto. Ecco, è come se nella nostra generazione questa cosa stesse raggiungendo limiti estremi, quindi noi non fruiamo un contenuto che conosciamo già nel senso di un film, perché un film ha comunque una parte creativa, no? Noi fruiamo proprio dei contenuti che sono ripetitivi, che si ripetono e che per questo ci tranquillizzano e che tra l'altro a differenza del film non hanno nemmeno una trama, quindi non contengono un atto creativo reiterato. Questa cosa, lasciatemi dire, avviene un po' per tutti i trend, cioè perché il meccanismo del trend, e mi riferisco al trend inteso come il balletto che è sempre lo stesso e che replicano più creators, o la battuta replicata da più creators, o quella determinata cosa fatta da più persone, perché altrimenti noi continuiamo a fruire questa dinamica qui, cioè non dovrebbe annoiarci dopo un po' guardare la stessa cosa fatta non in modo creativo, perché c'è anche chi ha un atteggiamento creativo nei trend, chiaramente ci sono dei trend che sono creativi, mi riferisco a quei trend però che hanno della passività e in cui magari, è vero c'è stato un atto creativo all'inizio, ma io non mi riferisco all'atto creativo, mi riferisco alla ripetitività di riprodurre quella determinata azione, quindi quel balletto, quella moda, quella battuta che è sempre la stessa appunto, perché se no noi continuiamo a fruire, non dovremmo annoiarci, non ci annoiamo perché ci tranquillizzano, perché in qualche modo sono la nostra comfort zone in tutta questa rapidità, ci cullano, ci dicono ok questa cosa la conosci, questo sai come vai a finire, ci metterai poco tempo a finirlo e a rilassarti con questa cosa qui, perché magari non avresti tempo di fruire un contenuto più lungo in questa società così rapida, e invece questo ti terrà al sicuro in questo momento, io ci ho pensato tante volte a questa cosa, fatemi sapere se siete d'accordo ovviamente. La seconda cosa insomma che si trova in questo trend e che secondo me risponde molto bene a quella che è una realtà della nostra società, è il fatto che questo trend ci dà l'illusione di controllare qualcosa, prevedere qualcosa, nell'epoca in cui ormai tutto sembra incontrollabile e imprevedibile. Guardiamoci intorno, guerre, situazioni geopolitiche imbarazzanti, crisi umanitarie, veramente siamo in un'epoca storica che soprattutto quando la si vive da giovani, non è facile attraversarla, perché sembra veramente di non potersi costruire un futuro, e torniamo al discorso dell'ansia di cui è al primo punto, cioè oggi chi ha vent'anni, e mi ci metto dentro anch'io, fatica a proiettarsi nel futuro, diventa veramente una cosa asfissiante questo futuro dilaniato da guerre, difficoltà, crisi in qualunque campo possibile, e quindi avere l'illusione di poter controllare almeno una piccola parte, fosse anche un piccolo gesto di una persona all'interno di una diretta di TikTok dove ci sono altre 20.000 persone e però quella persona fa proprio il gesto della mia reazione, ci dà l'illusione di avere sotto controllo qualcosa e magari anche di essere importanti per qualcuno, perché appunto si è fatto quello che era il nostro desiderio, il nostro gesto. Quindi secondo me riflette proprio un po' questa impossibilità di governare la quantità di cose che succedono e che paradossalmente non possono nemmeno essere governate dal singolo, perché non sta certo al singolo risolvere le crisi che ci sono nel mondo. Certo, sta al singolo non essere passivo politicamente, ma non può fare da solo la differenza e quindi secondo me quest'ansia si manifesta all'interno di questo trend come di tanti altri. E io insomma diciamo che ho individuato queste tendenze a cui vorrei aggiungere una piccola riflessione. Lasciando da parte il discorso della mercificazione, che sarebbe un po' complesso da fare, io credo che in questo trend sia rinvenibile una buona dose di alienazione. L'alienazione è un concetto filosofico molto complesso, che per farla breve consiste nel proiettare al di fuori di sé qualcosa che fa parte di sé. È un concetto che nasce con la filosofia hegeliana, ritorna nella filosofia di Feuerbach, raggiunge i massimi estremi filosofici in quella che è poi la filosofia di Marx, che parla dell'alienazione del lavoratore all'interno della fabbrica, la fabbrica fatta con la divisione del lavoro, in cui il lavoratore si sente alienato rispetto ai colleghi, rispetto a se stesso, rispetto alla società, rispetto all'oggetto che produce, rispetto a una serie insomma di dinamiche. E io credo che alla base di tanti di questi trend, che alcuni dicono ma è solo un trend, non è dannoso, è vero, cioè se fosse un trend su cui tutti noi riflettessimo criticamente non sarebbe dannoso, ma il problema è che secondo me tanti di noi non ci riflettono. E perché non ci riflettono? Perché ormai come società, e la colpa non è assolutamente di questo trend, ma è di una serie di atteggiamenti che abbiamo reiterato, messo in atto per decenni, noi come società tendiamo ad alienare le nostre coscienze, il nostro spirito critico al di fuori di noi. E lo facciamo come società, cioè non è che lo fa il singolo uomo, lo facciamo proprio socialmente, nel senso che non ne stimoliamo l'esercizio di queste qualità, le rimandiamo a qualcosa di altro e noi semplicemente non ci pensiamo. E quindi viviamo, soprattutto sui social, un dissidio, nel senso che siamo alienati da una parte rispetto alla vita reale e dall'altra ci alieniamo nei contenuti che vediamo e spesso anche nei creators, negli influencer, nei personaggi che vediamo e con i quali magari ci illudiamo anche di avere un rapporto di tipo diretto personale e magari appunto loro hanno 6, 7, 10 milioni di follower e quindi appunto non è possibile avere un rapporto personale con loro, cioè loro non sanno nemmeno della nostra esistenza, perché il lavoro del creators o meglio dell'influencer straseguito non è quello del rapporto quotidiano con l'utente, ma perché non sarebbe possibile, ma è quello della pubblicazione appunto di contenuti con cui l'utente interagisce ma è comunque un'interazione passiva, nel senso che non c'è il rapporto, lo scambio umano. E quindi secondo me tutte queste cose ci sono in questo trend come in tanti altri, ma questo mi ha inquietato talmente tanto che non ho potuto insomma non fare appunto una tipologia di riflessione in questo modo, ecco. E in ultimo vorrei toccare un tasto un pochino dolente, che è quello della responsabilità etica. Che cosa dobbiamo fare di fronte a questi contenuti? Contenuti che di per sé non sono dannosi, perché non sono contenuti che incitano all'odio, al cyberbullismo, no, sono contenuti che semplicemente mettono in atto un qualcosa di estremamente ripetitivo e il problema è che come questi contenuti ce ne sono tantissimi altri ed è in generale molto ripetitivo, molto passivo, molto poco creativo e molto soltanto legato al fatto di ricevere passivamente il nostro atteggiamento sui social e quindi insomma ci sentiamo importanti nel momento in cui possiamo dare un apporto creativo per quanto piccolo come il fatto di poter dare un input a un creator che poi esegue un gesto che abbiamo comandato noi. Qual è la nostra responsabilità etica di fronte a questi contenuti? Probabilmente è una responsabilità di sensibilizzazione, nel senso che è molto strano pensare a dirette del genere come forme di intrattenimento, non perché non possano esserlo, ma perché ci fanno capire come sta cambiando il modo in cui la nostra società concepisce l'intrattenimento, nel senso che si tratta di modalità che non hanno una trama, che non hanno una... o meglio hanno una trama che è molto semplice, come quella dei giochi per il cellulare, che non hanno una vera trama come i videogiochi potenti, insomma i videogiochi con una storia e quant'altro, ma sono soltanto ripetitivi, ecco. Però in cui appunto l'utente ha un ruolo ancora inferiore perché nel videogioco appunto sei lì a schiacciare tasti, quantomeno qui sei qui a schiacciare tasti, ma quante donazioni potrai mai fare? Cioè quante volte potrai far fare al creator la tua azione prima di annoiarti? Perché poi appunto è anche questo, quando arriva il momento in cui ci annoiamo e arriva il momento in cui ci annoiamo, ecco forse la nostra responsabilità etica non è assolutamente quella di demonizzare questi trend, ci mancherebbe, non è questo il senso, l'ho detto 8 milioni di volte, ma è quello di cercare di svilupparci intorno a uno spirito critico, perché va bene divertirci qualche minuto insomma con queste live, con i creator che fanno questo gioco, perché alla fine è un gioco, no? Ma l'importante è separare sempre quella che è la nostra esperienza sui social dalla nostra vita reale ed essere ben consapevoli del fatto che probabilmente dietro determinati trend, i trend non sono solo trend, i trend sono il modo in cui una società si muove, lo manifestano in modo forse anche un po' inquietante e quindi il fatto di non ridurli solo a trend, ma davvero di cercare di svilupparci intorno a uno spirito critico. Semplicemente questo, cioè non restiamo passivi di fronte a queste cose e non condanniamole senza ragionarle, semmai riflettiamoci, cerchiamo di capirle perché comprendendole, ecco nel momento in cui le comprendiamo è il momento in cui non sono più gravi, ok? È il momento in cui si possono fare senza fare del male a nessuno e la responsabilità etica in questo senso dovrebbe essere sia dalla parte degli utenti, sia dalla parte dei creators che appunto se vogliono fare questi contenuti fanno bene ovviamente, ma dovrebbero in qualche modo sensibilizzare sul modo in cui fruire di questi contenuti, probabilmente anche le piattaforme potrebbero regolamentare, perché appunto sono dei contenuti che sono ripetitivi e che quindi sono privi di contenuto e il discorso è che quanto può far bene alle persone interagire continuamente con dei contenuti che sono ripetitivi e privi di contenuto, quanto può stimolarli? Non mi riferisco solo a questo trend, ma ad una marea infinita di trend che si trovano sulle piattaforme e che insomma ho colto l'occasione per riflettere insomma qui tutti insieme. Fatemi fare appunto un ultimo appunto, a me spiace poi vedere che alcune persone stiano adesso demonizzando i videogiochi come esperienza, come oggetto, insomma come strumento per via di questo trend, ho visto persone dire ah vi siete tutti rimbambiti con questi videogiochi, allora io sono una grande amante dei videogiochi e soprattutto dei videogiochi insomma con grandi trame, trame filosofiche e il discorso qui è che non è che i videogiochi funzionano così, cioè non è che nel senso ci sono dei videogiochi che hanno un apporto storico minimo, una parte critica minima, ma i videogiochi a cui le persone tendenzialmente giocano per molto tempo sono videogiochi che hanno enormi sforzi creativi da parte sia di chi li ha creati sia di chi li gioca, quindi gli NPC infatti sono dei personaggi che sono appunto secondari nei videogiochi, sono dei filler fatemeli chiamare così, soprattutto gli NPC di questa tipologia perché poi ci sono degli NPC molto più evoluti che fanno parte integrante della trama, sono parte integrante della trama tipo per chi gioca, mi è stato spiegato che anche Joel di The Last of Us 2 è un NPC, io pensavo fosse un personaggio a tutti gli effetti, non comandato da noi, io non ho il gergo tecnico dei videogiochi scusatemi, ma mi è stato detto che tecnicamente è un NPC, quindi ci sono NPC ed NPC, questi NPC imitano degli NPC molto passivi, ma non è che i videogiochi per questo siano molto passivi e molto ripetitivi, quindi non cogliamo ogni occasione buona per demonizzare i videogiochi perché sono una forma d'arte e in quanto tale vanno assolutamente rispettati e compresi, perché qua ogni occasione sennò è buona per attaccare i videogiochi che ci bruciano il cervello a noi giovani con tante G. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me all'interno di questo video, essendo il tema un po' spinoso vi aspetto ovviamente nei commenti, ripeto, nessun attacco personale a nessun creator, anzi mi farebbe piacere confrontarmi con qualcuno che la pensa diversamente da me, in modo ovviamente educato, perché altrimenti non ha senso e non rispondo agli attacchi non educati, non rispondo agli attacchi, non esistono attacchi educati, vabbè devo cercare il video, è troppo tempo che farnetico, e detto ciò grazie mille per aver seguito questo video, io vi aspetto ovviamente su Instagram, TikTok, YouTube e Spotify dove mi trovate come esme-psituisma, mandate il video insomma a qualche amico se pensate possa fare di piacere e vi aspetto nei commenti, ciao!